Coordinata dal prefetto l'ultima riunione delle forze dell'ordine in vista del Natale, nella quale è stato fatto un elenco dettagliato di tutte le iniziative in programma e per ognuna applicato uno specifico protocollo di sicurezza. I livelli di attenzione sono quelli che devono essere in un periodo come quello storico che viviamo e quindi è ovvio che esistono degli obiettivi sensibili che vanno attenzionati. Pronte anche fioriere e altri ostacoli, barriere che verranno posizionate a protezione della zona pedonale e che rimarranno anche dopo le feste. Le aree pedonali, le aree di maggiore afflusso, quindi le aree che hanno per la loro vocazione una presenza particolare, quindi parliamo di aree dove si fanno i mercati, le aree della basilica, insomma sono queste le aree della città. Prossimo appuntamento il tavolo tecnico del questore che firmerà le ordinanze per distribuire al meglio il personale di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, luoghi sensibili, saranno nei prossimi giorni i mercati, le aree per gli spettacoli e ovviamente i luoghi di culto. Tutti luoghi religiosi nei quali comunque ci sarà un accesso maggiore di persone, è ovvio che sono richiamati ma è un richiamo che rimarrà dal Ministero. Grazie a tutti.